Saranno circa 100 i protagonisti della Festa della Musica Europea, una manifestazione internazionale che riempe oltre 200 città d'Europa di musica e di musicisti. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Fano ha aderito all'evento che si svolgerà sabato 21 giugno, celebrando così il sostizio d'estate. A coordinare e organizzare l'iniziativa invece l'associazione culturale Fano Music Story, che è nata nel marzo 2014, conta già 200 soci. Quest'anno ci sono arrivate una trentina di richieste di musicisti di tutta Italia. Ne ricordo una pianista classica di Milano che voleva un pianoforte bianco in piazza 20 settembre. E purtroppo per mancanza di fondi economici e quindi la non possibilità di ospitare tutti questi musicisti che da tutta Italia vorrebbero proprio venire a Fano sulle 60 città italiane che aderiscono alla Festa della Musica. Questo ci sprona a lavorare, a cercare contatti per fare in modo che l'anno prossimo magari questa cosa riusciamo a farla. Durante la manifestazione sarà possibile partecipare anche al concorso Una Foto per ogni musica, organizzato con la collaborazione di Centrale Fotografia. Le 20 migliori immagini che evidenzieranno l'anima di ogni diverso stile musicale saranno pubblicate sul sito della Festa della Musica Europea, nello spazio dedicato alla città di Fano. Un modo per far conoscere i nostri luoghi, intrattenere i turisti, far sentire della buona musica e anche un modo per far conoscere i gruppi che hanno la possibilità, esibendosi in modo gratuito ovviamente, di farsi apprezzare e conoscere. Quindi un volano, io mi auguro anche per il lavoro di molti giovani che sono talentuosi e avranno l'opportunità di una vetrina. Gli eventi in programma si terranno in alcuni luoghi suggestivi nei più importanti locali di musica dal vivo, dal Lido alla Sassonia, in piazza 20 Settembre fino a Torrette e a Piagge. Gli appuntamenti pubblicati nel sito fanomusicstory.it si terranno in contemporanea dal centro storico alla zona mare di Fano, dove sul palco centrale si esiberà il gruppo Carta Carbone alle ore 21 e 30. In più faremo un tributo al compianto Freak Antoni, con il quale io facevo il corrista un po' negli ultimi anni e tra l'altro per l'occasione verranno a trovarci a suonare con noi Alessandra Mostacci, che era la sua ex compagna e pianista, Elisa Minari, la bassista dei Nomadi. E non è escluso che forse ci venga a trovare anche Max Cottafavi, l'ex chitarrista di appunto Liga Bue, che faceva parte della band. Inoltre abbiamo il nostro cantante fanese Armando Dolci, che fa parte appunto del progetto della Freak Flag Band, quindi vi aspettiamo tutti domenica sul palco del Lido.